Le ultime linee guida sullo scompenso cardiaco della Società Europea di Cardiologia pubblicate ad agosto 2021 mi pare diano dei segnali chiari in alcune aree, la prima è l'area della definizione di scompenso cardiaco con degli elementi di categorizzazione che probabilmente nella fascia di lieve riduzione espandono le popolazioni dei pazienti trattati, la categorizzazione rischia di essere uno strumento rigido di classificazione e il clinico dovrà comunque farne un uso che in qualche caso garantisca la rappresentazione della dinamica di malattia perché confluire su alcune categorie può essere potenzialmente fuorviante, chi dalla bassa frazione di liezione sale al 41-49% ha un segnale prognostico estremamente favorevole, chi da una frazione di liezione superiore al 50% passa al 41-49% dà un segnale prognosticamente molto sfavorevole, quindi c'è spazio per la valorizzazione clinica degli aspetti dinamici delle classificazioni. Il secondo aspetto è l'irruzione degli SGLT2 inibitori e il riposizionamento dei vari farmaci inclusi i recettori della neprilisina coniugati ad antagonismo dei recettori per l'angiotensina seconda, i cosiddetti ARNI. Nel primo caso quello degli SGLT2 inibitori direi che sostanzialmente se ne autorizza l'impiego clinico per i diabetici e i non diabetici e per l'insufficienza cardiaca con frazione di liezione inferiore o uguale al 40%, ma in sostanziale coincidenza con la pubblicazione delle linee guida è stato pubblicato l'Emperor Preserved che dimostra l'utilità dell'impiego di Empagliflozin anche nei pazienti con frazione di liezione superiore al 40%. Il terzo aspetto che focalizzerei è quello relativo al declassamento del defibrillatore in prevenzione primaria per la cardiomepatia non ischemica. Questo è un capitolo secondo me molto delicato che richiederà al clinico di personalizzare la valutazione prognostica multiparametrica perché è evidente che in alcuni pazienti giovani con lunga attesa di vita che appartengono a sottogruppi ad alto rischio come alcuni sottogruppi genetici, come alcuni soggetti con estesa fibrosi in risonanza magnetica come alcuni pazienti con cointeressamento del ventricolo destro o grave espressività ritmica intanto la frazione di liezione non è sicuramente un elemento di categorizzazione prognostica e il fatto che la classe di raccomandazione sia diventata seconda per le nuove linee guida potrebbe essere potenzialmente fuorviante e quindi al clinico verrà richiesto di essere molto attento nella stratificazione del rischio dei pazienti con forme non ischemiche. Poi direi tutto il grande capitolo della resincronizzazione ha un elevato livello di appropriatezza sui QRS molto larghi mentre evoca nel clinico l'attenzione in termini di appropriatezza ai QRS inferiori a 150 millisecondi. D'altro canto si espande l'indicazione alla resincronizzazione per pazienti che devono mettere un pacemaker essendo portatori di disfunzione ventricolare e per i quali si ricorda che la costante attivazione del ventricolo destro potrebbe essere un elemento di disincronia e quindi si eleva il grado di raccomandazione per coloro che in presenza di disfunzione ventricolare con frazione di lezione inferiore al 40% vanno per una turba di conduzione atrioventricolare ad impianto predirigendo l'approccio biventricolare. Poi c'è tutto il grande capitolo di coronarografia e rivascolarizzazione coronarica che non ha una classe di raccomandazione elevata che è stata ridimensionata. Io credo che anche questo nel singolo malato richiederà al clinico di personalizzare la scelta. Personalmente credo che i dati dello stitch trial, il follow up a 10 anni, dimostrino che la coronaropatia multivasale in presenza di disfunzione ventricolare anche di malati che non abbiano una severa angina può essere un'indicazione alla valutazione attenta del malato ma nella prospettiva di una rivascolarizzazione. E' chiaro che in questo setting, cioè il setting dello scompenso cardiaco con malattia coronarica multivasale non sintomatico per angina invalidante, la massa critica di miocardio vitale, la funzione del ventricolo destro, la pressione polmonare, la graftabilità dei vasi, il profilo di comorbidità del malato, sono tutte variabili sulle quali scegliere la decisione. Importante è lo spazio dato dalle linee guida alle malattie del miocardio, ricordiamo che fra le cardiomepatie e fra le cardiomepatie con insufficienza cardiaca e funzione preservata c'è l'amiloidosi e quindi tutto lo spazio per il tafamidis nei pazienti con amiloidosi trastiretina mediata, sia nelle forme mutate, sia nelle forme cosiddette wild type, cioè nelle forme senili e c'è un interessante capitolo dedicato alle miocardite che include anche un approccio critico alla biopsia endomiocardica che mi pare di grande interesse. In generale mi pare che da queste linee guida e anche dal congresso che stiamo vivendo in questi giorni si vive una proiezione verso un futuro nel quale 1. l'approccio multiparametrico all'inquadramento diagnostico, alla stratificazione prognostica dei malati, 2. l'avvento dell'intelligenza artificiale come modalità per mettere insieme variabili e codificare fenotipi che possano rispondere specificatamente ad alcuni approcci prognostico-terapeutici e 3. non dimentichiamo che andiamo verso la medicina di precisione che vorrebbe identificare categorie fenotipi di malati che possano in maniera speciale beneficiare di alcuni approcci terapeutici.